Un gesto importante che fa la differenza per chi lo fa, chi lo riceve e chi fa volontariato, un gesto per imparare la carità. I volontari parte attiva della 23esima edizione della giornata nazionale della colletta alimentare, che per l'intera giornata porta dinanzi ai supermercati i volontari Pettorina Gialla, per invitare tutti i cittadini a compiere un gesto fondamentale che consente di recuperare cibo, alimenti a lunga conservazione, destinati ai più bisognosi. Alimenti per l'infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, biscotti, sughi e pelati. Sono questi gli alimenti di cui necessitano maggiormente le strutture caritative che si rivolgono al Banco Alimentare. Come ha precisato stamattina ai nostri microfoni il direttore del Banco Alimentare, Roberto Tuorto, insieme ai volontari dinanzi ad un supermercato della città di Salerno. Oggi, giornata della colletta alimentare, un gesto di condivisione dei bisogni dei più poveri. Un gesto che facciamo innanzitutto per condividere appunto un bisogno immediato, qual è quello del cibo sempre più urgente e diffuso. Ma è un gesto che, diciamo, soprattutto è importante per chi lo fa, sia come volontario, sia come donatore. Cioè può diventare esperienza nel momento in cui capiamo che la legge della vita è la legge della carità. Cioè è una legge di gratuità e di riconoscenza e di gratitudine per ciò che ci è dato. Obbedendo a questa legge possiamo essere capaci di condividere con gli altri fratelli uomini i loro bisogni. Questo è sinteticamente il gesto della colletta alimentare, al quale invitiamo tutti a partecipare, anche donando di pasta, per imparare molto semplicemente. Siamo qui coinvolti persone di tutte le età, di tutti i ceti sociali, anche persone che sono ospiti, ad esempio, di un centro di prima accoglienza a Piazza San Francesco, presso i Padri Cappuccini. Sono loro che hanno detto immediatamente sì, perché più di altri evidentemente intuiscono e capiscono un gesto di gratuità e di accoglienza. Sono loro la nostra partecipazione dei mercati della Campania, sono 786 quest'anno, oltre 5.000 volontari, ma quello che è grande è questo spettacolo di volti, di amicizia, di persone che chiedono una cosa semplice, per un giorno di fare la spesa non solo per sé, ma anche per chi non può farla. Sembra un gesto semplicissimo, ma ho detto a loro, voi testimoniate una cosa importante in questo momento, che l'egoismo non vince nel nostro popolo. Siamo feriti, ma non siamo ancora morti. C'è ancora chi vuole avere una speranza e la vuole donare agli altri. Il Papa ci ha invitato ad allargare il nostro cuore insieme alle nostre braccia, a trovare nella parola accoglienza la verità della nostra vita, perché che cosa vogliamo noi dalla vita? Essere accolti, essere voluti bene. Se non lo facciamo con gli altri, come possiamo pretendere che sia vero per noi? E allora questa domanda è bella, ma allo stesso tempo per noi non ha proprio un motivo. La persona è la persona e non esiste davanti a questo nulla che possa far chiudere le braccia e cambiare la nostra posizione umana di fronte a quello che vediamo ogni giorno, perché bisogna vedere ogni giorno i volti delle persone.